Non so mai quando arrivano e perché, le domande arrivano e basta. Danza, giochi luminosi e filosofia, e scena al teatro Mecenate e Luce di Alinari. Arrivano quando meno le aspetto, quando sto per addormentarmi, quando vado via dal mare, quando guardo fuori dalla finestra. Sono... luce. Lo spettacolo, aperto a altre danze, rassegna che fino a marzo animerà i teatri Aretini con un programma di eventi dedicato ad un vasto pubblico e pensato per bambini, giovani, famiglie e scuole. C'è una voce narrante, diciamo, che sono i pensieri miei, ma in questo caso di una bambina che si fa le domande. E io danzo su queste parole, danzo sulle domande, cercando di trasformare in movimento e in immagine quello che la voce dice. Non è un mimare le domande, ma è lasciare che la danza evochi un'atmosfera in cui è il corpo stesso a suggerire immagini e domande. È un processo, diciamo, simile al sogno e come nei sogni la realtà in qualche modo cambia e diventa altro da quello che è. Luce è uno spettacolo consigliato dai sei anni, un viaggio per cercare il filosofo che c'è in ogni bambino e in grado di coinvolgere grandi e piccini. Ho scoperto che non si smette mai di domandarsi, di farsi le domande a tutte le età e che le domande del bambino incontrano le domande della persona adulta e dell'anziano.